ecco qua che questo connettore qui va agganciato qui all'interno questo ragazzi è la fine dove si va a agganciare un'altra estremità comunque ragazzi quello che ci interessa a noi è questo ed ecco qua ragazzi che ho messo anche la striscia led vicino alla scrivania devo solamente sistemare un po' questa zona qui finale comunque posso cambiare colore come potete vedere posso fare diventare rosso flash va così qui abbiamo quest'altra tonalità che cambia colore vedete e devo dire che fa un bel effetto ragazzi poi c'è anche quest'altra modalità comunque devo solamente mettere a posto qui quei fili lì per terra c'è anche questo qui che è figo e niente ragazzi mettetevi piace commentate iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti